Per me il velo rappresenta la più alta forma di libertà rispetto all'immagine della donna che l'Occidente vuole in grado a tutte le donne. Non è una vera libertà, la libertà che ti consente solamente un'azione in un certo verso. La libertà è la libertà a 360 gradi e vale per chi vuole spogliarsi quanto per chi vuole cobrirsi. Ho ritrovato negli Islam alcune cose che nel cattolicesimo non ero riuscito a trovare. Il fatto che il Corano sia un perfetto accordo con la scienza moderna per me uccide.